Sto per morire Pepito, Pepito, Pepito sto per morire Sto per fare una missione suicida, è stato bello conoscervi Oh mio Dio Mi sono messo una maschina, ma non serve a niente in realtà perché si sentono lo stesso dolore E se ci sbocco dentro è un bel casino eh Tu che stai guardando questo video lo so e ti stai chiedendo ma che cosa è quella roba? Via, fa le creme Però ogni tanto avanza dell'impasto, solo che questa volta ci siamo dimenticati nel frigo per giorni Guardate il colore Questo era l'impasto per le crepe, era bianco una volta Lo devo fare, lo devo fare, lo devo fare Questa immagine potrebbe contromettere, compromettere il vostro stato d'animo Che bella quarantena che vi sto facendo passare Sto raccrimando Oh mio Dio Buon day, io sono barbuto Ma non ho la barba Guarda Io posso farire Benvenuti in un nuovo video Non sto facendo, sono fatto un po' Giuseppe mi hai rotto le palle Mi hai rotto le palle Questa quarantena mi sta facendo diventare gigante Guarda qua Gigantesca Guarda come lo va, trovo come se fosse una bottiglia d'acqua Ti metto 20 euro qui, se riesci a prenderli, sono tuoi Ci sei? Vado eh Eh no, dammi tre lungo Eh certo 3, 2, 1 Presi? No Riproviamo 3, 2, 1 Ho presi? No 3, 2, 1 Presi? No Eh no, ma non li hai mossi Su Youtube ho visto un sacco di video di persone che si fingevano a morte Se non registravano la reazione dei loro cani Io oggi voglio dimostrare che anche Pepito ha un cuore Io ho visto molti cani che andavano a soccorrere queste persone che si fingevano a morte E voglio dimostrarvi che anche Pepito ha un cuore E anche lui cercherà di soccorrermi Perché anch'io voglio provare a fingermi morto e vedere come reagisce Pepitino Vedete com'è che è coccoloso, com'è, si fa accarezzare tutto Adesso sono sicuro che sta per cagare Sto per morire Pepito 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 sto per morire Vieni a vedere se respira ancora Pepito Sono ancora qui Pepito Avete visto il mio riccio come il carino? Pepito Non me l'aspettavo, io ve lo giuro Su quello che volete Che Pepito se ne frega assaltamente Invece guardate, ormai siamo compagni Oh no Pepito Oh no Pepito Bravo Pepito Tu vuoi un filare nell'aperto Non lo vuole, non lo vuole il croccantino, va bene Ok, io e il mio Pepito vi salutiamo Ci vediamo mercoledì con un prossimo video Perché ormai ogni settimana, ogni mercoledì, venerdì e domenica uscirà un nuovo video Se siete dei nuovi iscritti mi raccomando iscrivetevi E commentate con hashtag nuovo iscritto Ciao